Buongiorno dal Tg della mobilità. Normale orario festivo a ferragosto per la rete del trasporto pubblico, orari e percorsi saranno gli stessi di una domenica di agosto. Sulle linee della metropolitana le ultime corse dai capolinea partiranno alle 23.30. Nelle stazioni della metro le biglietterie resteranno chiuse ad eccezione della biglietteria nella fermata di Termini che sarà aperta per metà giornata dalle 8 alle 14. Le altre notizie, cantieri e trasporto pubblico a Monteverde, terminati i lavori sulla rete idrica di via Ozana ma che è stata riaperta al traffico. Ripristinato così anche il normale percorso della linea 44. Proseguono invece anche in questi giorni i lavori sull'area di capolinea in piazza Venezia. Le fermate delle linee bus sono state trasferite in via degli Astalli. Tre linee fermano all'altezza di piazza San Marco. Per il momento è tutto. Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg della mobilità.